buongiorno a tutti in questo e nei prossimi video che realizzerò intendo parlarvi di alcuni paesi borghi situati nel nostro monferrato alto e basso monferrato oggi vorrei iniziare con il parlarvi del paese di ponzone che si trova a circa 600 metri sul livello del mare sulle alture di acquiterme il toponimo si attesta già nel 967 dopo cristo come ponzonus la cui etimologia deriva sicuramente dal nome proprio maschile di ponzio le origini del paese di ponzone risalgono all'epoca romana e questo è attestato da diversi reperti archeologici monete medaglie urne funerarie che sono state rinvenute proprio scavando nei territori limitrofi circostanti ponzone nel decimo secolo dopo cristo ponzone fa parte della marca aleramica e diventerà poi un importante centro del marchesato che si estende tra la valle di spigno la valle dell'orba e la valle del torrente erro ugo figlio di anselmo terzo nipote a sua volta di un primo anselmo figlio di aleramo ugo eredita giurisdizione su una ampia fetta di territorio che si estende dal litorale ligure precisamente tra albisola e varazze fino alla pianura padana la pianura alessandrina ugo è marchese del bosco e di ponzone sono poi in realtà i figli di ugo questo discendente alleramico discendente di aleramo sono poi i suoi figli rispettivamente aleramo e anselmo a suddividere i territori e a determinare due rami alleramici che sono rispettivamente il marchesato del bosco e il marchesato di ponzone che sono separati purtroppo questa suddivisione che ovviamente implica anche un frazionamento dei territori non fa che indebolire entrambi i ramici scusate entrambi i rami alleramici la storia del paese di ponzone prosegue nel tempo nei secoli per esempio ponzone passa sotto il dominio della città di acquiterme successivamente è sotto genova per poi tornare nelle mani dei monferrato quindi sotto il dominio dei gonzaga e poi nel diciottesimo secolo viene inglobato nei domini sabaudi se voi vi recate a ponzone oltre ad ammirare il bellissimo panorama sulle colline del nostro monferrato che si perde poi verso l'appennino ligure e nelle belle giornate di sole nelle giornate limpide c'è veramente un panorama molto molto affascinante in realtà se vi recate a ponzone passeggiando nel suo piccolo centro storico potete osservare delle belle costruzioni dei belli edifici centro storico medievale e di tutto quello che più mi ha colpito e che voglio brevemente descrivervi è l'oratorio del santissimo suffragio c'è un bellissimo portale in pietra arenaria che risale alla prima metà del seicento attraverso questo bel portale si entra nell'unica navata dell'oratorio se alzate gli occhi al cielo potete ammirare la volta la volta dell'oratorio del santissimo suffragio di ponzone è stata dipinta da un famoso pittore locale che è pietro ivaldi detto il muto di toleto siamo nella seconda metà dell'ottocento si tratta infatti di un pittore sordo muto nato nella frazione di toleto piccola frazione del paese di ponzone in realtà se voi girate un po nella nel nostro monferrato dalla sia nella zona di casale monferrato sia nella zona di acquiterme insomma un po in tutta la provincia di alessandria anche nel paese di solero nella chiesa di san perpetuo per esempio potete ammirare bellissimi affreschi realizzati proprio da questo pittore locale sempre all'interno dell'oratorio di ponzone è possibile ammirare e l'occhio non può che non cadere sul gruppo lineo scolpito dal maragliano maragliano è uno dei più importanti scultori del barocco ligure che operò all'interno della sua bottega tra il 6 e il 700 e in realtà non solo qui a ponzone ma in parecchie chiese e oratori soprattutto della zona della quese del novese la zona di serravalle scrivia e si possono ammirare pregevoli opere scolpite da lui o dalla sua bottega dalle casse processionali ai bellissimi crocifissi quelli caratteristici sia liguri che della zona del piemonte che confina con la liguria quindi la zona appunto nostra appenninica i bellissimi crocifissi con i canti infine sempre all'interno dell'oratorio del santissimo suffragio di ponzone è possibile ammirare statue e linee pregevoli risalgono pensate all'epoca rinascimentale tra 4 e 500 e provenienti invece da una bottega lombarda la bottega dello scultore lombardo del maino quindi buona gita e buona visita nel paese di ponzone e arrivederci alla prossima puntata con un nuovo borgo del nostro monferrato grazie a tutti grazie a tutti